Ciao Filomena! Ciao Marco! E un saluto a tutti i congressisti. Questo di oggi è un video un po' diverso. Diciamo che quello di oggi è un messaggio per voi che avete creduto e lottato da subito insieme a noi e per chi fino al 2015, con i diviati della legge 40, ci ha impedito di diventare genitori quindicati. E' con immensa gioia che oggi vi presentiamo la vita, la speranza. Nostra figlia Martina. Filomena ci disse la prima volta che ci siamo incontrati che ci saremmo riusciti. Siamo passati per la Corte Costituzionale per vedere affermati i nostri diritti e senza di lei questo non sarebbe stato possibile. Siamo con voi in ogni battaglia per i diritti fondamentali dove in un paese dove molto spesso la politica ci lascia soli e tende a farci allontanare. Grazie a voi tutti perché ci ridate speranza e fiducia nel futuro e il futuro oggi è anche Martina. Un abbraccio. Ciao. 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 Ciao.